I mesi caldi per i dipendenti della provincia retina non sono ancora terminati. Dopo le battaglie sono iniziati i riordini previsti per l'ente. Per 100 lavoratori, 98 dipendenti e due dirigenti, entro gennaio 2016 è previsto il trasferimento in Regione Toscana. Ma i punti interrogativi rimangono ancora i protagonisti del futuro dei dipendenti provinciali. Rimangono ancora aperte invece le questioni relative ai 10 poliziotti provinciali che con il decreto enti locali ormai trasformati in legge devono entro il 31 di ottobre trovare una allocazione o all'interno della provincia o di nuovo seguendo le funzioni regionali che la Regione ha deciso di gestire direttamente o essere ripartiti con criteri ancora molto vaghi per non dire inesistenti presso i comuni. Mentre per il centro per l'impiego, che si parla di altri 43 dipendenti, fino a almeno un anno, un anno e mezzo non si può parlare di vera riallocazione. La Regione Toscana forse entro la fine dell'anno, i primi del 2016, proverà quantomeno a entrare nel contesto dei rimborsi economici necessari sia per le politiche che svolge il centro per l'impiego che per i dipendenti. Mentre per quanto riguarda i 202 circa dipendenti che rimangono in provincia, questi sono tutti collegati a quello che è il futuro dell'ente di aria vasta, sono collegati alle vicende economiche e finanziarie derivate dal bilancio del 2016 e del 2017, visto che il 2015 il bilancio anche per alcune previsioni nel decreto antilocali di utilizzo di riserve e di operazioni finanziarie solo annuali invece che triennali consente una chiusura, una possibilità di operatività del bilancio del 2015. L'incerto rimane il 2016 e il 2017.